Come va, Maccio? Bene, ho finito due serie, mi sto distraendo, mi distraggo, faccio cose. Sì, ma c'hai due occhiali che sembri un panda. Ciao, Maccio. È un piacere conoscerti. Che cazzo è? Come ti abbiamo? Cazzo, pure tu c'è sta cosa. Mi sentiste sempre al cellulare. Allora soffi nel cellulare, no? Com'è possibile? Ciao a tutti i ragazzi di Moschering. Taccitua! Te l'ho detto, col calcio sulla palla si riprendeva. Segua con attenzione le mie istruzioni. Ora vada su impostazioni, pannello di controllo. Così è che io non mi intendo proprio tanto della mia mente. Maccio! Sei felice? Felice! Felice! Cazzo. Veramente siamo arrivati a stirrelli? Aia! Non mi vedi? Colpa mia che sei andata! Abbandoni la col così! Ma vaffanculo!